buona sera e benvenuti a tutti qui al circolo sportivo stella azzurra per le semifinali di andata dei playoff di serie a regular season le squadre che si sfideranno quest'oggi sono to work e fra i brazil ecco la barbosa che sale sarete il dribbling di barbosa lascia per bednasky il destro da fuori palla che si stampa sul palo dentro in rete fra i brazil subito in vantaggio con il destro da fuori di bednasky a poletti la deviazione incredibile il to work trova subito il gol del pareggio con poletti il sinistro micidiale in sacca e fa 1 a 1 ancora barbosa bednasky cambia tutto per elinori ballone girato all'interno dell'area di rigore 1 2 con il compagno elinori fa 2 a 1 per il fly brazil si riporta in avanti la squadra di casa barbosa il dribbling su paoletti ancora barbosa il destro da fuori e in sacca un destro precisissimo di barbosa fa 3 a 1 per il fly brazil ora c'è correia tutto per tutto con il portiere sebastiani l'errore di sebastiani e correia fa 4 a 1 per il fly brazil non riesce a metterla dentro il il numero 1 del tour che fa ripartire i suoi c'è paoletti paoletti elimina l'area di rigore paoletti il sinistro 4 a 2 per il tour che sempre paoletti attacca sulla fascia sinistra di nori balla dentro per bednasky con lo scavino il tocco sotto del numero 30 del fly brazil fa 5 a 2 quando siamo al ventiquattresimo minuto di gioco di nori di testa per vallocchia sono tre contro due vada bednasky contro sebastiani e a porta completamente sguarnita vallocchia la mette dentro per il 6 a 2 del fly brazil successo palla si sposta il pallone sul destro dietro per linori il sinistro 7 a 2 fra i brazil il sinistro devastante di linori da fuori aria il numero 7 sfida correia il sinistro in diagonale 7 a 3 to work paoletti ci crede ancora 33 sul cronometro 7 a 3 per il fly brazil intanto paoletti recupera un gran pallone il destro subito 7 a 4 to work incredibilmente mette un 1 2 assegno fantastico 7 a 4 flores to work che ci crede un gran numero di paoletti il destro un grandissimo gol di paoletti 7 a 5 per il 2 work a sebastiani adesso da fuori di paoletti e poi a tu per su paoletti una rimonta che sembrava impossibile per il 2 work 7 a 6 un solo gol prima del pareggio linori 1 2 con il compagno linori fino in fondo linori 8 a 6 la squadra di casa si porta nuovamente a due lunghezze sugli avversari fiammelli paoletti fiammelli palo e palla che finisce in rete 8 a 7 per il 2 work quando mancano pochi sgoccioli alla fine del match lascia con il tacco a rama la serie di dribbling ancora rama con l'esterno per vallocchia 9 a 7 fra i brasil si fa trovare scoperto il 2 work e vallocchia non ci pensa due volte da fuori sebastiani trova il corpo del compagno rafiammelli dentro paoletti la girata al volo di paoletti 9 a 8 quando mancano veramente 10 secondi no non secondo l'arbitro che fa finire qui la partita triplice fischio e 9 a 8 per il fly brasil ai danni del 2 work